Professoressa Viola, abbiamo prove che chi si è ammalato di Covid possa riportare danni cronici o permanenti a polmoni, cuore e cervello. Cioè la metto così, coloro che anche oggi sono guariti da Covid potrebbero domani essere un problema sanitario da affrontare? Sì, beh allora sicuramente il rischio del danno ai polmoni c'è perché le persone che hanno subito delle polmoniti gravi che sono state intubate hanno dei danni ai polmoni che possono durare nel tempo, nel senso che si può instaurare un meccanismo di fibrosi, quindi proprio delle cicatrici che si creano a livello del tessuto polmonare che possono quindi ridurre la capacità di ossigenazione da parte dei polmoni. Questo non deve essere necessariamente visto come un problema permanente però sicuramente può avere un impatto nei prossimi anni, nella capacità respiratoria nei prossimi anni in questi pazienti. Si era già visto con la SARS, si era già visto con la MERS e sicuramente è possibile che accada anche in questo caso perché l'infiammazione grave insieme anche al danno che si ha quando c'è un'intubazione, una ventilazione forzata, possono portare dei danni a lungo termine ai polmoni. Sul cervello e il cuore non abbiamo ancora delle certezze? Sul cervello e il cuore non abbiamo ancora delle certezze, per cui come lei sa io non parlo mai quando non ho delle certezze. Certo, aspettiamo degli studi consolidati.